Ben trovati, grazie di essere qui per questa cuorezza in cui cercherò di parlare di un soggetto che a prima vista magari potrebbe sembrare di scarso interesse perché oggi ce lo chiamiamo Via Ripamonti, ma che naturalmente ha un'origine di effettivamente, quando si chiamava appunto Strada Ligialtina. Prima dico solo due parole sulle attività che effettivamente si può, come stavo dicendo prima senza microfono, quando qualcuno viene di collaborare io rispondo sempre di sì e motivo è questo, principalmente per questo modo, per tutto, mi sono inventato un giornale che si chiama Milano Cultura e poi collaboro appunto con Inarte, con Quattro, che ho trovato anche qua, con il giornale Milano Sud, con l'Ottacco della Cura di Milano e le prossime mesi anche con il giornale delle nostre partite. Questa è un'attività giornalistica, ho spiegato un po' di libri, sto preparando un altro che si intitola Borghi che scende dalla zona 5, di cui avevo parlato l'anno scorso, e che dovrebbe vedere la luce tra fare avanti. Questa è l'attività, diciamo, di scrittoria. Poi ci sono naturalmente altre attività, come il Centato, signor Prioschi, che ha parlato di essere il Presidente dell'Associazione Informazione Italiana Policolo, che da più di 30 anni porta la cultura a Milano valorizzando, e facendo conoscere quello che è meglio conosciuto e che ha ricevuto per questo anche la Progeno Doral 2010. È un'associazione che principalmente fa proprio conferenze a queste puntate, mostre anche queste giornate, quindi un'attività di buona cultura della nostra Milano, così poco va raggiunta, specialmente quando ci risposta fuori le bastioni. E infatti, una delle attività che abbiamo messo in piedi proprio quest'anno è un servizio di conte che si chiama Al di là delle bastioni, qui dà verso Expo e Oltre, che si tiene uno spazio culturale a Mosca, qui c'è in Piazza Missori, e la stiamo organizzando con l'ex assessore, e sono tutti dobbiamo conoscere, il servizio d'autore Caruma, che è per sempre per l'Iranca, e con altri personaggi della città, sia, diciamo, delle istituzioni che scrittori, altri personaggi di questo tipo, e un altro conto sarà appunto il 29 gennaio del 18, sulla burocrazia in particolare, che frega molto l'attività culturale della città. Quindi, queste sono alcune delle iniziative, altre iniziative di cui siamo, diciamo, corrisposto, sono delle mostre d'arte pittoriche, ad esempio, e una rassegna che si chiama Concerto di Beriferia, che in cinque anni ha racconto 160 concetti, e che si svolge, in crescere adulto, in una trentina partita di uomini intorno al centro, proprio per valorizzare periferibili a Chiesi, che non sono soltanto le gare, come si dice spesso sui giornali, ma anche tantissimi uomini molto belli, e di cui alcuni vedremo anche oggi durante questa presentazione.